Benvenuti a Bipress News di lunedì 7 marzo. Per il popolo delle libertà il candidato sindaco sono io. L'annuncio è arrivato dalla coordinatrice del PDL di Barletta, Maria Grazia Vitobello. La decisione è arrivata con un po' di ritardo rispetto a quanto previsto. Il centrodestra si è preso un po' di tempo dopo il ripensamento dell'imprenditore Bartolo Tatò. Il PDL ha incontrato anche alcuni esponenti delle forze di centro, ma non si sa ancora se ci saranno largamenti ad altri partiti. Nel giro di pochi mesi è stato scoperto il terzo deposito di auto rubate sulla Morgia. In località Masseria Pietro Gianni, tra Corato e Andria, le guardie per l'ambiente hanno ritrovato tre automobili. Una Fiat Punto rubata a Trani due settimane fa, una Opel Astra rubata a Arminervino a Settembre e una BMW senza targa. Gli altri due depositi scoperti in precedenza dalle forze dell'ordine erano in località Masserie Nuove. La bottega del caffè, una fra le commedie più riuscite di Carlo Goldoni, è in scena mercoledì 9 marzo alle ore 21 al Teatro Impero di Trani, rappresentata dalla Compagnia del Teatro Carcano. Ambientata nella Venezia settecentesca durante il Carnevale, la commedia narra la storia di Don Marzio, nobile napoletano, che seduto al tavolino del caffettiere Ridolfo, spia i passanti insinuandosi nelle loro vite. Metafora di un agire umano spinto all'invidia e alla brama di denaro, la bottega del caffè riflette sull'etica e sulla morale comune. Le strade e i luoghi storici di Barletta diventeranno un percorso fotografico da mercoledì 9 a domenica 13 marzo, con il Festival della Fotografia R Evolution. Organizzato dal Fondo Internazionale Orvieto Fotografia, la manifestazione coinvolge la creatività italiana d'eccellenza, con mostre ed eventi all'insegna dei nuovi talenti. I fotografi esporranno in 80 mostre le loro opere, raccontando la loro visione personale del mondo in scatti. La Manzoni Sport e Pallavolo Andrea perde a Modugno, ma recrimine molto per un terzo set lasciato per strada, non proprio per demeriti propri. Qualche assenza di troppo e il valore indiscusso dei padroni di casa canalizzano i primi due set con relativa semplicità verso il Modugno. Ma il terzo parziale è di altro tenore. Giuliano Zoe riesce a sistemare un sestetto equilibrato in campo e a condizionare l'andamento ci pensano di gran lunga i due direttori di gara, con una prestazione davvero negativa. Chiuso il capitolo Modugno, ci si ritroverà in palestra per preparare al meglio la sfida casalinga contro il side-out Castellana, lanciatissimo verso il play-off. Una gara difficile per la Cardo Volley Barletta, che sul terreno di gioco della Gea Tecno Gioia del Colle perde per 3-0 e resta in una posizione a quota 19 punti, in piena zona play-out. La crisi di risultati che attanaia la formazione barlettana non sembra trovare una soluzione e sabato prossimo al Palamarchisella di Barletta vi sarà uno scontro diretto per la salvezza. A sfidare la Cardo Volley saranno le giovanissime del progetto Aspav Florence, ferme anch'esse a quota 19 ed in lotta per un posto fuori dalla caldissima zona della graduatoria. Con questa notizia è tutto, arrivederci a domani.